Ciao a tutti, per la ricetta di oggi utilizzerò degli ingredienti molto semplici, ma anche delle spezie. Abbiamo il curry, la paprika e la paprika affumicata. Vado a mettermi il grembiule. Bene, sono pronta e vai con la ricetta! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Buon appetito!